Ciao a tutti e benvenuti nel canale video della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè e in questo video vi voglio dire perché ho deciso di sostenere su Kickstarter un gioco da tavolo, anzi per essere precisi, un gioco di carte che si chiama Winter Haven Woods. Allora piccolo disclaimer, questo non è un video sponsorizzato, è semplicemente un video, il secondo video diciamo che realizzo appartenente a questa serie in cui spiego come mai ho deciso di sostenere determinate campagne Kickstarter. Il primo video che ho realizzato era per The Witcher The Old World, il video ha avuto un notevole successo anche per il titolo di grande richiamo a cui si riferiva. Ecco questo è un gioco molto più piccolo, molto più economico, nella sua versione normale diciamo costa 20 dollari su Kickstarter, più spedizione ovviamente, sapete che su Kickstarter la spedizione viene sempre poi calcolata alla fine della campagna. Oltre alla versione base da 20 dollari ci sono delle versioni, c'è l'Artist Edition a 40 dollari, la Featherstone Edition a 500 dollari, ma insomma includono solo, diciamo, materiale extra del tutto, che non ha nulla a che fare col gioco diciamo, cioè del materiale artistico, no? Delle stampe, ok? Quindi, quindi, sì, insomma, non perdete nulla in termini di giocabilità nel prendere semplicemente la versione base che appunto costa 20 dollari, d'accordo? Allora, cos'è Winter Haven Woods? Winter Haven Woods è fondamentalmente un gioco di card drafting e di set collection, ambientato in questo bucolico mondo, diciamo, della natura, della foresta, ambientato diciamo in queste foreste innevate. Lo scopo del giocatore è creare questi boschi attraverso delle carte che rappresentano alberi e popolare questi boschi con creature appunto del bosco, ok? Quindi per esempio scoiattoli, per esempio cerbiatti, ma anche animali come ricci, volpi, civette, predatori come lupi, orsi e naturalmente più animali vengono posizionati in un determinato bosco e più quel bosco farà punti a fine partita. Però ecco, ci sono delle meccaniche interessanti e c'è anche un certo grado di interazione fra i giocatori, anche se la pagina con la descrizione insiste molto sul fatto che questo è un family game, anzi la descrizione dice proprio Winter Haven Woods is a strategic drafting and set collection game for 1-6 players that plays in 15-20 minutes. Però ecco, c'è un interessante elemento appunto di interazione. Ci sono alcuni animali, per esempio, che rubano carte ad altri giocatori, per esempio la volpe può essere usata per rubare animaletti ad altri giocatori. Ci sono animali come i predatori che uccidono, si cibano di altri predatori. Quindi ecco, trovo questo un aspetto interessante, no? Questo è un gioco, come dire, molto carino da vedere, no? Molto, molto apparentemente molto sereno, tranquillo, puccioso, quasi verrebbe da dire, che però in realtà non rinuncia a rappresentare, no? La crudeltà, no? Che è sempre insica in ogni ambiente naturale, irrimediabilmente, no? Sono le leggi della natura, diciamo. Quindi mi piace, no? Questa sorta di, come dire, di commistione, no? Fra l'elemento appunto così poetico e arcadico e l'elemento invece anche un po', no? Violento e di competizione e di interazione anche appunto forte, no? Come funziona il gioco in soldoni? Potete trovare dei video linkati nella pagina Kickstarter che spiegano in dettaglio il regolamento, anzi potete anche scaricare il regolamento, quindi potete approfondire naturalmente se avete voglia di approfondire. Comunque il gioco è diviso in tre round e ogni round inizia con un draft di carte, quindi a ogni giocatore vengono date sette carte, se non ricordo male, e deve sceglierne una e passare le altre sei, no? Al giocatore di fianco e si va avanti così finché ogni giocatore non ha selezionato la sua, diciamo, mano di partenza per quel round. La cosa curiosa però è che questa mano non viene tenuta in mano in realtà, ma viene messa scoperta sul tavolo in una zona che si chiama la meadow, un termine che è utilizzato anche in Everdell, no? Un gioco che amiamo molto, proprio per indicare, diciamo, una sorta di display scoperto, ok? E una volta appunto realizzato questo display, a ogni turno il giocatore appunto sceglie una carta da questo display, la gioca e ne svolge i relativi effetti, d'accordo? Quindi se ha degli alberi, per esempio, può popolare di alberi i suoi tre boschi, perché può creare al massimo di tre boschi, no? Sul tavolo ogni giocatore, ok? Ci sono delle regole, no? Per posizionare un animaletto in un bosco deve esserci almeno un albero per ogni animaletto che viene posizionato in un bosco, ok? Alcuni animaletti devono seguire regole precise, quindi per esempio gli scoiattoli devono, sono le uniche creature che possono popolare un bosco, i cerbiatti vanno messi a coppie, il coniglio può invece andare anche insieme ad altri animali, insomma ogni animaletto poi ha delle sottoregole diciamo specifiche e appunto esistono anche questi animali più pericolosi appunto come gli animali che possono rubare carte alle meadow degli altri giocatori o anche ai boschi degli altri giocatori e animali che possono addirittura cibarsi appunto di altri animali, ok? Si procede in questo modo per tre round e alla fine si procede appunto al calcolo dei punti e anche qua ci sono delle regole, ci sono delle regole particolari e interessanti, per esempio le carte rubate danno vita a un malus di punti a fine partita, d'accordo? I predatori danno punti ma solo se hanno cacciato anche nell'ultimo round, va bene? Anche nella fase finale della partita, se non hanno cacciato non danno nessun punto, gli hedgehogs, i ricci danno punti se sono nella meadow, non devono essere posizionati in nessun bosco, ok? Trovo che sia, no? Che abbia una meccanica, non lo so, apparentemente la meccanica del gioco è interessante, le illustrazioni secondo me sono bellissime e appunto mi piace molto che ci sia questa componente di interazione, no? Spesso, spesso questi giochi appunto mancano, no? Di questa, di questa componente e credo che qui l'interazione sia anche ben tematizzata, ok? Per tutti questi motivi, per il costo anche limitato del gioco, ho deciso di sostenere questo gioco su Kickstarter, d'accordo? Ecco, sappiate che nel momento in cui pubblichiamo questo video ci sono solamente sette giorni, sei giorni di tempo per partecipare a questa campagna, quindi non c'è tantissimo tempo, quindi date un'occhiata al progetto e se vi interessa sostenetelo anche voi, d'accordo? E fatemi sapere in generale che cosa ne pensate di questo gioco, che cosa ne pensate ancora di questo format di video e se vi sono utili. Mosè dalla Maschera Riposta vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie.